Sì, partita quinta, non vedi, sono emozionato, contento che abbiamo vinto di nuovo in semifinali, la Molfetta ha fatto a noi sempre fastidio tutta la stagione, abbiamo giocato bene, quasi bene, però l'importante è che abbiamo vinto oggi. A questo punto si rinnova la sfida con Modena, stavolta sarà una semifinale. Sì, è sempre piacere giocare contro Modena, specialmente se è una semifinale o finali, in questo caso quest'anno è semifinale, speriamo tutto per andare in finale, non sarà facile, neanche per loro ovviamente, e niente, adesso tutto è aperto, adesso si gioca, adesso si comincia. L'unico problema è che dopo due partite di semifinale avete anche la Final Four di Champions League, gli giocate due traguardi importanti nel giro di due settimane. Sì, di sicuro non sono triste per questo, sono felice, ho una Final Four di nuovo, anche per me personalmente, anche per questa squadra, e vediamo di fare il meglio possibile, abbiamo la semifinale contro Macerata, di nuovo squadra italiana. Tutte queste cose sono molto positive per noi, perché siamo una squadra giovane, sicuramente può solo aiutare.